Questa manifestazione incontriamo un attonito Riccardo Maggi, consigliere capitolino della lista civica a Marino, che sta succedendo Riccardo? Oggi c'è stata una seduta del Consiglio Comunale e contemporaneamente una manifestazione composita qui fuori al grido di onestà e dignità del credo sia Movimento 5 Stelle ma anche la lista Marchini, anche vedo Unione Sindacale di base e altri soggetti. Ho sentito leggere e declamare delle intercettazioni in particolare su alcuni casi noti che sono emersi in questi giorni relativi all'inchiesta giudiziaria della Procura di Roma Mafia Capitale, in particolare quello sull'affare del nuovo campo nomadi della Barbuta con il finanziamento dell'Erua Merlin, ovviamente si sono visti bene i manifestanti da leggere la parte in cui chi stava per concludere l'affare ha detto beh ci sono i radicali, c'è il Consigliere Radicale che qua hanno alzato il casino e ci stanno mandando tutto a monte e questo diciamo già dice qualcosa perché se uno si vuole rifare agli atti e dire proprio leggerli e declamarli direttamente nulla costerebbe farlo fino alla fine, fino alla fine di quel paragrafo perché forse anche questa è un'informazione che gli stessi militanti del Movimento 5 Stelle giustamente mossi da un'aspirazione, un principio di legalità dovrebbero avere la possibilità di saperlo e per il resto devo dire che qua ci sono due tendenze un po' convergenti, questa fuori dal Palazzo Senatorio e quella del primo cittadino che ha ormai 10 giorni dallo scoppio di questa seconda fase dell'inchiesta, mi sembra abbastanza incredibile, non solo non c'è stata una seduta del Consiglio in cui il Sindaco si è venuto a fare una relazione politica su quanto accaduto, dicendo che cosa è andato, che cosa non è andato, quali tipi di controlli non hanno funzionato, ma anche dicendo due, tre punti chiari, netti sui quali intende ripartire con un'azione di governo e come intende farlo, questo non è avvenuto ma ancora di più non c'è stata nemmeno una riunione della maggioranza, della maggioranza con il Sindaco, poi della maggioranza con gli assessori magari che hanno un ruolo centrale nei settori dove sono accaduti determinati reati legati all'inchiesta e questo è abbastanza disarmante da un punto di vista della tenuta politica, dell'autorevolezza delle istituzioni che dovrebbero in queste ore fare di tutto per recuperarla di fronte ai cittadini che comunque sono disorientati se non schifati e purtroppo questo non c'è stato, questa è la nostra richiesta, cioè che si riporti questa crisi politico-istituzionale nella sede propria, che è il Consiglio, è un dovere che il Sindaco ha, altrimenti noi rischiamo che questa crisi degeneri nella mancanza di risposte e di soluzioni di governo, noi le stiamo avanzando, abbiamo cominciato ad avanzarle sabato mattina con la conferenza stampa che abbiamo fatto qui di lancio delle due delibere di iniziativa popolare proprio sul superamento progressivo dei campi Rom e su una ipotesi di riforma del sistema di accoglienza per richiedenti asili e rifugiati e sono due modi politici di dare una risposta a quello che sta avvenendo fuori, il resto devo dire è molto demagogico, è molto populista, è molto disarmante. Grazie Riccardo Maggi. Grazie a tutti.